Per primi è meglio prendere anche le botte, detto popolare meridionale. La pensano così anche quattro precari del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. In tutto, gli stagionali al servizio dell'ente sono 17, in media lavorano 110 giorni all'anno, è il numero minimo di giornate che consente loro di beneficiare della cosiddetta disoccupazione agricola. Proprio per questo, i quattro di cui dicevamo sono preoccupati. Sebbene siano stati assunti, inizieranno a lavorare solo il 12 di luglio. Il tempo passa e raggiungere la quota che fa scattare gli ammortizzatori diventa difficile. Lamentano davanti alla sede del Consorzio, dopo esserne usciti a mani vuote, visto che il presidente Raffaele Cotugno non c'era. A parlare con e per loro Sergio Calce dell'Unione Sindacale di Base. Quello che chiediamo è che assolutamente ci sono lavoratori che fanno tantissime ore di straordinario e altri lavoratori che non stanno lavorando. A questo punto sia giusto che i lavoratori che stanno fuori, che sono quattro, che verrebbero assunti il 12 luglio, bisogna vedere anche se fanno queste 50 giornate. Allora perché non assumerli adesso e far meno straordinario e consentirgli un po' a tutti di arrivare perlomeno a 70 e poi si va a verificare i fondi se ci sono per arrivare alle fatidiche 110? E stamani a stretto giro la replica di Raffaele Cotugno, presidente del Consorzio di Bonifica. Gli altri quattro che sono rimasti fuori verranno prese che serviranno a spalmare tutto il lavoro fino al 31-12. Perché se io assumo tutte in un determinato momento, poi arrivo a 30 settembre che non ho più operai a disposizione. Perché a noi la regione ci dà una somma di denaro che ci consente di fare solo quelle giornate, 110. Perché queste persone che stanno lavorando ora hanno iniziato prima rispetto a loro? Perché comunque in tutti gli operai che abbiamo in essere al Consorzio solo quattro hanno le mansioni da operatori macchine operatrici, scavatori, terna e trattori. Cioè vi spiego, solo queste persone possono operare con quei trattori. Che altri hanno classifica inferiore 116 che sono coloro che sono gli stagionali e forestali. Cioè decespugliamento, taglio delle siepi e quant'altro. Quindi queste prime quattro persone non potevo non assumere perché se no avevo i mezzi parcheggiati. Sono stati però chiamati poi in seconda battuta altri otto operatori? Sì, altri otto operatori che sono quelli che seguono le macchine agricole, che fanno manutenzione sulla rete in rigua e quant'altro. Gli altri quattro che sono rimasti fuori verranno prese che serviranno a spalmare tutto il lavoro fino al 31-12. È una questione di etica, morale, economica, sociale per tantissime famiglie. Ripeto, però non è possibile chi lavora 13 ore e chi non lavora per niente. Il messaggio che dico a calce è che deve stare tranquillo, come glielo ho detto altre volte. Anche l'anno scorso sono venuti qua sotto e poi le 110 giornate. Io capisco l'eccesso di zelo di calce, deve fare il suo lavoro, ma anche noi stiamo facendo il nostro.